Notati Gesù e Maria Siamo celebrando la tredicesima domenica del Tempo Ordinario Catelle e Sonate Carissimi Ieri sera durante la prima di questa liturgia ho propondito la seconda parte dell'Angelo sull'accoglienza del profeta e del giusto unitamente con la prima lettura dove c'è questa sonamita che accoglie il profeta di Sero e ne riceve buona grazia alla nascita miracolosa di un figlio c'erano altri due argomenti da approfondire con distinte omelia che sono la prima parte dell'Angelo che sarà oggetto se tu vuole nella prossima omelia e poi la stupenda seconda lettura che è un passo veramente focale della lettera di San Paolo Romano dove San Paolo cerca di farci ben comprendere cosa significa essere battezzati e quindi conseguentemente come deve essere la vita di un battezzato degno di questo nome brevemente la ripercorriamo insieme San Paolo comincia con una domanda domanda quasi retorica fratelli non sapete che quanto siamo stati battezzati in Cristo e Gesù siamo stati battezzati nella sua morte espressione che indica due cose la seconda è la propondizione del versetto seguente ma la prima che non dobbiamo mai dimenticare è che per ridarci la grazia Gesù Cristo è morto in croce e tutte quante le sue terribili sofferenze e pene sono state sofferte anzitutto per distruggere e cancellare il peccato originale quello con cui nasciamo che è radotto dal battesimo è che è la causa della rovina del genere umano mi raccomando biglioni mi cari perché se nella nostra fede divina e cattolica non è chiara molto chiara la dottrina sul peccato originale finisce completamente la ragiondessa e la stessa del cristianesimo e la necessità della Chiesa per la salvizia poi però San Paolo approfondisce dicendo attenzione per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti attenzione insieme a lui nella morte affinché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre così anche noi possiamo camminare in una vita nuova che significa questa cosa? significa che attraverso il sacramento del battesimo noi siamo stati sepolti con Cristo in che senso? siamo morti con lui ma come siamo morti? in che senso? lo spiega San Paolo nell'ultimo versetto consideratevi morti al peccato ma viventi per Dio in Cristo Gesù una persona che è battezzata al peccato è morto sapete che significa? un morto l'avete mai visto? che fa un morto? niente un morto è inerte non coppia nessun tipo di azione perché è un canale allora lo spiega San Paolo se ha un battezzato si gli si para dinanzi o per una tentazione o per un'occasione un peccato lo fa secondo me un battezzato? è un battezzato? volontariamente? no perché è morto cioè il peccato ti sta dicendo il peccato per un battezzato è morto è come se non ci fosse quando qualche giovanotto mi dice di fare domande sul sesto comandamento dice che si può fare che non si può fare guarda tu devi fare un discorso semplicissimo per un cristiano l'argomento del sesto non c'è siamo morti a meno che un bel giorno per vocazione non ti si aprono le porte del sacramento del matrimonio e allora questo capitolo si apre nei limiti e nella misura in cui la volontà di Dio l'ha disposto se no questa cosa tu devi considerare come se non ci fosse perché così l'hanno sempre considerata in duemila anni tutti i santi e i dottori tutti nessuno esposto quindi c'è ma non c'è cioè lo fanno tutti sì sì lo fanno tutti ma io sono morto cioè non mi tocca proprio che la cosa di tra qualche giorno una pesta di Santa Maria Corretti patrona della nostra diocesi io sono di Latina quindi a Latina è super solennità perché era patrona principale dell'agrocontino che cosa ha detto Santa Maria Corretti Alessandro Serenelli che faccio io un rapporto prematrimoniale manco morta cioè tu puoi ammazzare questa cosa non la farò mai e si è fatta ammazzare si è fatta ammazzare quindi capite perché quella cosa non si fa mai nessun caso e per nessun motivo manco morti morti a peccato sto facendo un esempio per farvi capire ma così vale per tutti un battezzato non va ammazzare la domenica se sto a letto con 40 di febbre o con 42 se sto in ospedale ricoperate per carità è ovvio ma se non esiste che non vada ammazzare la domenica un battezzato bestegna bestegna sia con le bestegne da scaricatore di porto sia con quelle più gravi sono più gravi dovevi dire ah ma se Dio è buono perché è successa questa cosa cattiva questo è più grave con le bestegne da scaricatore di porto eccetera al peccato siamo morti e che cosa succede? Gesù è morto e però è anche risolto allora il battesimo anzitutto ci lava dal peccato originale e ci seppellisce cioè ci dice guarda che da oggi in poi basta soltanto che tu lo vogli che tu lo voglia scusate il capitolo peccato è chiuso però ci stanno altri capitoli da avrire quali? tante cose belle tante cose buone che possiamo fare vivere per Dio in Cristo Gesù cioè da oggi in poi la mia vita è al servizio del Signore i peccati no ci stanno tante cose belle da fare ci sta da rendere gloria a Dio ci sta da pregare da esercitare tutti gli atti delle virtù da fare tutto quanto il bene possibile da lavorare santamente da mantenere la famiglia da essere un grande marito da essere una grande moglie da essere un grande studente un grande figlio la volessimo da fare quindi su questo carta bianca quindi per il bene si va alla grande ma al male le porte sono chiuse San Giovanni nelle sue lettere dice la stessa cosa un'espressione che qualcuno rimane un pochino perplesso sapete cosa dice? chiunque è nato da Dio non pecca chi pecca non lo ha mai visto né conosciuto è chiaro attenzione quando viene usato il termine peccato perché ci sono varie terminologie e varie significate di peccato i cristiani si confessano quindi che vogliono fare una vita devota da santi anche tutte le settimane però c'è peccato e peccato come il termine un pochino ambiguo dice ma noi siamo peccatori quando comincia la messa oggi abbiamo fatto la spergios se facciamo l'atto penitenziale molto peccato in pensieri parole allora in che senso però in che senso qui San Paolo dice che siamo morti al peccato in che senso San Giovanni dice che chi è nato da Dio non pecca c'è peccato e peccato il peccato in senso forte è il peccato volontario cioè tu sai che una cosa è contraria alla legge di Dio nel poco veniale o nel tanto mortale e tu pur sapendolo lo fai questo un battezzato non lo fai poi l'atto penitenziale o l'offertorio della messa antica sapete come diceva il sacerdote offriva l'ostia e diceva signore accetta quest'ostia per gli innumerevoli peccati omissioni negligenze e inadempienze mie e dei presenti innumerevoli allora le imperfezioni i peccati semideliberati i difetti che ci abbiamo ah se il nostro signore ci facesse vedere tutti ci prenderebbe l'infarto d'accordo questi non possiamo evitarli questi dobbiamo piano piano conoscerli con l'aiuto della grazia cercare di combattere quindi correggere i difetti moderare i vizi toglierci le imperfezioni volontarie questo è il lavoro perpetuo che dobbiamo fare aiutati dalla grazia e questo è anche il motivo per cui la chiesa raccomanda la confessione frequente anche quando non si commettano peccati gravi come un battezzato non deve commettere però deve essere chiaro che il peccato con la P maiuscola è una cosa che a un battezzato degno di questo nome è estranea perché se tu ripecchi mortalmente come si legge in altri posti dell'antico testamento tu torni a crocifiggere nostro signore Gesù Cristo e sputi addosso il mistero della sua passione e della sua morte e questo noi non possiamo e non dobbiamo fare concludo se siamo morti con Cristo nel senso che abbiamo visto crediamo che vivremo anche con Lui sapendo che Cristo risulto dai morti non muore più la morte non ha più potere su Dio sapete cosa sta dicendo che bella cosa che ci dice che se tu vivi e custodisci la vita della grazia puoi sperare che non morirai mai più cioè che la tua anima non morirà mai più non perderà mai la grazia e non fare mai peccato mortale guardate che questo la chiesa lo insegna del concilio di Trento che mette nero su bianco ciò che già intuì Sant'Agostino con cui concludo l'ho detto tante volte una persona che non sta in grazia di Dio quindi che non è battezzata o che è pur battezzata verso la grazia diceva Sant'Agostino non può non peccare gravemente perché è schiava del diavolo una persona giustificata cioè battezzata o che viva in grazia può non peccare perché se vuole con l'aiuto della grazia può stare lontano dal peccato e invece quando saremo in paradiso non può peccare in paradiso diventa impossibile fare il peccato qui è possibile non farlo in paradiso diventa impossibile farlo perché l'unione con Dio è talmente grande che in paradiso il mare non c'è in Dio il mare non c'è e quando saremo fusi con lui nella visione biotimica del mare non sappiamo più neanche che cosa sia qui però rivestiti della grazia di Cristo che non è acqua possiamo combatterlo e vince siamo lodati Gesù e Maria seguiti della grazia di Cristo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti